Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua amici miei, buona vigilia a tutti, io sono in giro da stamattina alle 9 per ultimare i regali di Natale e il regali di Natale ce l'ha fatto la società che ci ha ascoltato, mi ha ascoltato perché nell'ultimo video invocavo e comunque ne ho parlato anche spesso in live non soltanto nell'ultimo video e non è diciamo la prima volta che lo dicevo che Filippi aveva perso le redini della squadra innanzitutto vi chiedo, vi faccio ancora i miei più sentiti auguri, buona vigilia a tutti, buon Natale per domani spero di riuscire a trovare un momento per entrare in live, far qualcosina per fare le chiacchiere con voi entro domani cioè comunque domani che è Natale, vi faccio gli auguri di buona vigilia e gli auguri anche in anticipo di buon Natale allora, è arrivato l'ufficialità un'oretta fa circa, mi dispiace essere un po' in ritardo con l'uscita del video ma comunque Filippi è stato esonerato, con lui il suo vice che è stato espulso nell'ultima partita è anche preparato la 13 eccetera eccetera, al suo posto Silvio Baldini Silvio Baldini che ricordiamo tutti per una cosa in primis il calcio nel culo dato al suo collega allenatore che adesso mi sfugge comunque parliamo di entrambe le cose l'esonero per me andava fatto, pochi cazzi è una cosa che vuoi o non vuoi, ok, che Filippi ha mantenuto per tantissimo tempo una media punti veramente allucinante perché fino a novembre avevo una media punti altissima sia per la stagione precedente che per la stagione corrente però nel mese di dicembre qualcosa si era ufficialmente rotto metto in chiaro un paio di cose l'esonero per me giustissimo perché non si poteva andare avanti così metto in chiaro un'altra cosa almeno che non mi smentiranno evitate di iscrivere tutti ah, è venuto a Palermo Baldini perché verrà gratis Baldini ha allenato gratis l'ultimo anno di carriera alla Carrarese e lo ha fatto per amore della società perché lui è di massa, se non sbaglio massa Carrara, Carrarese e lui ha deciso di allenarla gratuitamente non vuol dire che non prenderà soldi ricordiamo che il Palermo sul libro paga ha ancora Boscaia avrà quindi Filippi, Assomma e tante altre persone comunque, i papabili c'erano ce n'erano tanti sì, le scelte di cuore potevano essere delle rossi la scelta di cuore poteva essere Giovannino Teresco che dopo che ha, ne ha dette di ogni sulla nuova società penso che non l'avrebbero mai chiamato sì, c'era Venturato che per me era un sogno ma comunque andava dato nascosto alla squadra raga, pochi cazzi veramente andava dato nascosto alla squadra e da uno che ha tirato un calcio nel culo a un altro allenatore durante una partita raga, un calcio nel cuore dovrebbe darlo a qualcuno che quest'anno, lo dico col sorriso sulla faccia che quest'anno non ha reso perché ci sono tanti giocatori che secondo me a Palermo soprattutto questa stagione stanno, sono in vacanza sono semplicemente in vacanza perché si credono siamo giocatori del Palermo quindi si passano la loro bella vacanza a Mondello e non ci mettono la cazzimma che è quella che serve ringraziamo Filippi che però purtroppo ripeto, nell'ultimo periodo aveva perso completamente il tutto vero anche che un Baldini non può salvare la situazione fin quando in campo c'è gente come il capitano dell'ultima partita ok, quindi voi immaginatevi che quel giocatore non dovrebbe più giocare o comunque, vabbè, comunque poi ne parleremo di questo parleremo anche delle nuove tattiche magari cambieremo modulo eccetera eccetera ma aspettiamo prima sia la conferenza stampa che se non sbaglio è il giorno 27 adesso godiamoci tutto insieme il Natale e vedremo cosa avrà Baldini a dire di certo Baldini accettato sarà carico per questa avventura lui che è allenato per 4 anni la Carrarese come ultima avventura e me lo potranno dire i pochi tifosi della Carrarese e anche Nicola Valente che sentirò sicuramente perché Nicola Valente è stato un suo giocatore alla Carrarese ha fatto bene con i soldi della Carrarese in un campionato che comunque di Lega Pro forse a Permo molti si aspettavano tipo Klopp che tipo si liberasse dal Liverpool tipo Conte che dicesse no basta, basta Tottenham ma siamo in Lega Pro mettiamoci in te c'è gente che mi scrive è meglio Zamparini perché Zamparini ci portava giocatori come Di Bala ma che significa? ma siamo in Lega Pro ma Zamparini quando è arrivato a Palermo ragazzi era l'uomo l'uomo italiano con più liquidità al momento cioè mettiamoci in chiaro che Mirri con tutto l'amore del mondo che può avere verso la nostra maglia verso il nostro collo verso la nostra squadra perché anche sua non potrà mai avere la potenza economica che aveva Zamparini e l'obiettivo di Mirri è quello di vendere e di vendere bene questo Palermo ma non per incassare i soldi poi ognuno è libero di pensarlo come vuole ma di lasciare il Palermo in buone mani e questa stagione che non è ancora del tutto buttata ve ne mettiamoci in testa che siamo a gennaio manca tutto il giorno di ritorno tranne la partita con Latina e dopo la prestazione orribile a Catania dopo la brutta prestazione col Bari che ci può stare comunque a pareggiare con la più forte del campionato ma dopo la disfatta con le due espulsioni che comunque non sono colpa di Filippi ma il problema di Filippi era tanto altro per me era una dichiarazione in conferenza stampa da tempo è come se era lì e non c'era veramente io veramente cioè noi tutti noi tifosi dovemmo capire che è arrivato un allenatore che è allenato in carriera che a Palermo all'epoca prendeva un milione a stagione che in quella stagione comunque fece non discretamente proprio male 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 venne esonerato Zampani lo conoscevamo e ha un contratto fino a fine anno che in caso di promozione in serie B tramite playoff ovviamente perché solo con i playoff possiamo salire in caso di promozione in serie B verrà rinnovato e mi sembra un compromesso giustissimo ma come questo dovrebbero metterci in testa a quei giocatori tipo Fella no? Fella ha come nel contratto che se il Palermo va in B diventa del Palermo se Fella vuole giocare a Palermo in B l'anno prossimo deve darsi da fare se Baldini vuole mantenere la panchina del Palermo dovrà dare una scossa a quest'ambiente a quest'ambiente che è demoralizzato tantissimo dopo un mese di dicembre veramente imbarazzante dal punto di vista dei punti delle prestazioni soprattutto ripeto non è soltanto i risultati ma le prestazioni e mi aspetto da questo nuovo allenatore che e gli auguro ovviamente tutte le felicità del mondo perché se lui andrà bene andremo bene noi io sarò più contento mi aspetto che dia una strigliata alla squadra perché è quella che secondo me alla fin fine serve serviva qualcuno che ci mettesse che tirasse due schiaffi a chi non sta rendendo sono molto contento per Valente perché al 99% Valente tornerà a fare l'offensiva destra perché Valente Carrera ha sempre giocato alla destra offensiva ed è un giocatore che Baldini conosce io voglio sapere da voi cosa ne pensate commentate in tanti qui sotto ancora tanti auguri ultima cosa prima di chiudere al volo se volete ne parliamo anche in privato su Instagram quindi seguitemi Baldini può fare Baldini può cambiare i redini di questa stagione non vi sto dicendo che adesso inizieremo a vincerle tutte però passiamo da un non allenatore perché con tutto il rispetto del mondo per Filippi Filippi è sempre stato un vice e lo ha salvato la super prestazione dell'anno scorso a Catania con il gol di Mauro di ehi là di Mario ehi là la luce la luce di Mario e la madonna pure quella dietro di Mario Alberto Santana che gli ha salvato la panchina e l'esperienza e lo ha portato fin qui però ricordiamoci Filippi non è mai stato un vero allenatore Baldini sì quindi già lamentarsi in anticipo per l'arrivo di un allenatore come Baldini mi sembra proprio inopportuno comunque ragazzoli fatemi sapere cosa ne pensate sempre Forza Palermo incrociamo le dita per il proseguo della stagione in bocca al lupo a mister Silvio Baldini e mi raccomando c'è un giocatore in primis a cui dovresti dargli un bel calcio nel sedere speriamo che la società ci accontenti a gennaio con qualche colpo sia in entrata che in uscita soprattutto in uscita e ovviamente sostituiamoli bene questi giocatori perché Baldini può far bene ma ovviamente deve essere accompagnato da determinati giocatori e come ultima cosa auguriamoci che il passaggio di proprietà il passaggio di società il cambio societario avvenga alla svelta perché abbiamo bisogno di fondi e ne abbiamo bisogno presto un bacione a tutti sempre Forza Palermo e vamonos sono contento così grazie grazie grazie